Cari amici ed amiche, ciao ben ritrovati qui sul mio canale oggi ci vediamo una cosa che a me, diciamo così, senza dire che mi ha sconvolto però insomma mi ha lasciato a bocca aperta sicuramente praticamente viaggiavo, navigavo ancora meglio su internet anche qualche anno fa e vado a vedere un tizio che praticamente andava a fare questa cosa che andremo a vedere adesso ripeto, non è una cosa che ho trovato io però pensavo che in rete la sapessero un pochino tutti quanti però vedo che i miei allievi, i miei amici eccetera eccetera rimangono anche loro a bocca aperta quindi di che cosa parlo? andiamo a rinnovare le corde, sembrerà una sciocchezza però rimarremo a bocca aperta andremo a vedere, guarda io praticamente prendo la corda questo è un basso che fermo da tantissimi anni vado a allentare tantissimo andiamo a sbatterla senti che roba senti che roba senti la seconda com'è è pazzesco ragazzi andiamo a vedere la seconda senti la differenza non tocco nulla, faccio tutto in real time ok, allento poi male che vada ci provi se non c'ho ragione mi darai appunto però provaci che è fantastica guarda guarda sparti un po' si puliranno sicuramente senti che roba è pazzesco guarda senti mi fa divertire troppo questa cosa è pazzesco mi è morto proprio il sì che dire fantastico provaci fammi sapere ciao ciao